Bentornati cari amici in questo nuovissimo video, sono mancato per un sacco di tempo, vi vedete in una nuova location nella mia cucina, e si ormai questo passa il convento, ma siamo qui per parlare di orologi, non sono da solo, voi starete vedendo un computer, perché dentro il computer in questo momento qui con me c'è Pasquale, ciao Pasquo. Ciao Ale, bentornato, perché era da tanto che non facevi video, non so dove guardare, se sul computer o sulla camera. Guarda dove vuoi, guarda dove vuoi. Guarda dove voglio, allora guardo là. Guarda di lato, esatto. Guardo di là. Grazie dell'invito, e oggi, da quello che mi hai detto, che mi hai anticipato, quel poco che sei riuscito ad anticiparmi, visto i mille impegni che abbiamo, vuoi parlare di nuovo insieme di Formula 1, quindi del mondo delle corse e di orologi. Esatto, esatto. Però, vai tu, ti lascio parlare te. Vado io, allora ragazzi, questo sarà un episodio per ricordare, come hai detto tu Pasquo, i vecchi tempi del podcast, in cui già nei nostri tempi abbiamo fatto un episodio dedicato alla Formula 1, perché? Perché la Formula 1 sostanzialmente è una delle mie più grandi passioni, insieme al mondo dell'orloggeria. Stasera proviamo ad unirle, io parlo di stasera, se mi state vedendo, se ci state vedendo anche di mattina, non preoccupatevi, saltate questo dettaglio, perché proviamo ad unire questi due mondi. È da poco iniziata la Formula 1, probabilmente qualcuno di voi lo saprà, l'avrà già visto, e quindi, d'altro giorno, ho contattato Pasquale, ho detto, guarda Pasquo, facciamo un altro episodio, però facciamo qualcosa di diverso. Nel nostro episodio, che vi lascio, qui in descrizione, abbiamo parlato di orologi vintage, di Genova, abbiamo fatto un accoppiamento tra cinque grandi automobili Formula 1 del passato con cinque orologi del passato, cronografie da corsa. Oggi il discorso vuole essere molto più di getto, io non ho un discorso preparato, Pasquale non ha un discorso preparato, non so assolutamente quali sono gli orologi che mi presenterà lui. L'unica cosa che gli ho detto, ho detto Pasquo, questa volta facciamo un episodio parlando di orologi moderni, orologi che nessuno considera nell'orologeria contemporanea, quindi basta parlare dei classici Moon da corsa, basta parlare dei 6263, dei 6265, oggi parliamo di orologi, di cronografi sportivi contemporanei, e quindi io mi attacco, e ti do poi il là, perché sono curiosi di sapere cosa hai scelto, parlando appunto di quello che è oggi il legame tra la Formula 1 e gli orologi. Formula 1 è il pinnacolo del motorsport, lo sapete, le macchine sono sempre più veloci, sono sempre più tecnologiche, e quindi anche l'orloggeria sta un po' al passo con questa evoluzione appunto della Formula 1. Ci sono delle case che sono sponsor di Formula 1, come Tagoyer, come Richard Mille, come Hublot, se non sbaglio quest'anno Ferrari ha cambiato il main sponsor da Hublot a Richard Mille, non so se me lo confermerai, me lo confermi, esatto, perché ho visto appunto i piloti che indossavano Richard Mille della Ferrari, quindi partirei proprio da lì se tu hai scelto Richard Mille, io non so, forse l'avrai scelto, non saprei, dimmi tu. Allora, sì, ho scelto Richard Mille, ma non parliamo di Ferrari, parliamo del Richard Mille, poi magari metti delle foto così anche chi ci segue può capirlo, l'RM5003, che è il Manual Winding Tourbillon Split Second, dedicato alla McLaren. Voglio partire da questo, perché? Voglio partire da questo, Ale, perché è uno dei primi orologi che, diciamo, di Richard Mille, che ho visto, perché è legato a un personaggio che è molto legato al mondo dell'orloggeria, nonostante sia un pilota di Formula 1, e parlo di Alonso. Alonso è uno di quelli che mi ha fatto notare effettivamente, ancora prima che io iniziassi a masticare un po' di orologi, che effettivamente i piloti di Formula 1 avevano l'orologio al polso, e lui era uno dei pochi che aveva l'orologio al polso in pista. Sì. Perché? Perché Richard Mille, lo conosciamo benissimo, è uno di quei brand che produce delle cose assurde dal punto di vista costruttivo. Pensate solo che il calibro di questo nuovo modello pesa 7 grammi, è un calibro, come abbiamo detto prima, con cronografo split second, quindi abbiamo rattrapante come complicazione, c'è la ruota a colonne, abbiamo poi una resistenza alle forze G che è assurda, e quindi abbiamo un insieme di cose che ci fanno capire come effettivamente il mondo dell'orologio a si sia evoluto. E Richard Mille forse è il brand più importante da questo punto di vista, è il brand più conosciuto, che più fa questa cosa, che più è appunto anche sponsorizzato, che più è incentrato proprio su questo aspetto di darlo agli sportivi. Ad esempio io sono a Bante invece del tennis, penso a Rafa, è uno dei Richard Mille più conosciuti, e anche più apprezzati, e Richard Mille è proprio l'estremizzazione della tecnica nel mondo dell'orologeria, in tutti i sensi, sia dal punto di vista estetico, perché sono molto grossi, molto particolari, diciamo sono, adesso qualcuno si potrebbe offendere, però magari sono i G-Shock dei ricchi, nel senso che noi magari per andare a sciare, per andare in montagna, eccetera, ci compriamo i G-Shock per stare senza pensieri, perché è indistruttibile, lo sceicco magari si mette a Richard Mille. Chiaramente è completamente un altro tipo di approccio al mondo dell'orologeria, perché questi sono pezzi che costano più di svariati appartamenti, però ecco, Richard Mille è un brand molto interessante, che secondo me offre davvero tantissimo, dal punto di vista proprio tecnico, qualitativo, chiaramente costano davvero tanti, tanto, e come sappiamo quest'anno è diventato sponsor anche di Ferrari. Però, secondo me, voglio fare una piccola parentesi su Hublot, perché Hublot è un brand che nessuno considera. A me piace, come sai a me piace Hublot in realtà. È un brand molto particolare, molto particolare, e secondo me, nella categoria dei cronografi tra l'altro, Hublot fa una cosa che nessuno considera, che è lo Spirit of Big Bang Titanium, 42 mm, è un orologio chiaramente molto esotico, molto diverso da tutto quello che è l'orloggeria tradizionale, però parlando di orologi moderni, tra l'altro questo orologio è uno scheletrato con dettagli rossi, quasi in stile Ferrari, per dire, è molto particolare, tra l'altro, perché studiandolo, perché se non andato a punto a cercare qualche cronografo che ti potesse un po' stupire, devi sapere che questo cronografo si basa su un'architettura, è il primero. Dai, veramente? Torniamo sempre lì, sì, sì, sì. alla fine a Zenit si conferma la mamma dei cronografi, cioè... Sì, dei cronografi automatici, assurdo. E quindi il movimento che si chiama Hub 4700, si basa sull'architettura del primero. Pazzesco. Infatti, quando l'ho letto, ho detto, secondo me se io lo dico a Dale, lui si... incredibile. Impazzisce. Però sai cos'è, sai cos'è la cosa strana, no? che noi quando... cioè allora, quando tu pensi ad un cronografo da corsa, così di getto, cosa pensi? Sì. Di qualsiasi epoca. Allora, io personalmente sono limitato e dico, allora, in realtà vedo due orologi se penso al mondo delle corse, o il Daytona o il Carrera. Perfetto. E io voglio arrivare proprio lì. Proprio lì. Questa discussione già sta prendendo una piega che mi piace. Perché? Perché? È tutto all'impronta, ragazzi. Cioè, è incredibile questo. Non ci crederanno. Cioè, magari sì, alcune volte lo capiranno, però... Qua voglio arrivare. Cioè, noi, qual è il problema? Noi pensiamo sempre ai soliti orologi, come orologi da corsa, no? Al Daytona, al Carrera, se qualcuno è un grande appassionato di corse, penserà al primo Mega Speedmaster, che è nato per quello negli anni 50, per i piloti italiani, a Scari, Nuvolari, eccetera, eccetera. Però pochissimi altri. E poi c'è l'era, appunto, contemporanea di Hublot, i Fusion, Richard Mille, eccetera, eccetera. Ma perché Zenit, secondo te, non si è mai lanciata a capofitto nella Formula 1? Perché comunque Zenit è un nome così importante nella cronografia mondiale che mi sembra assurdo pensare com'è che loro non si siano gettati a scrivere il loro brand in Formula 1. probabilmente ci sarà stato qualche pilota che l'avrà avuto, ci sarà stato qualche comparsa di pubblicità, magari io ragazzi non sono un libro, non ho l'almanacco di Formula 1 in testa, magari qualcuno forse ce lo potrà ricordare, però ecco, non ti viene in mente Zenit, è una cosa assurda se ci pensi, molto strana. Sì, 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 anche perché poi, tra l'altro, l'ultimo Cronomaster che hanno fatto Sport è un orologio che misura il decimo di secondo, mi pare, e addirittura il DeFi, o DeFi, come si voglia pronunciare, ha persino una complicazione molto interessante, secondo me, che è il centesimo di secondo. Sì. Ed è molto interessante come è sviluppato quel cronografo, ovvero abbiamo due bilanceri all'interno dell'orologio, uno appunto che va alle classiche 4 Hz e uno che va, invece mi pare, a 400 Hz. Quindi, insomma, ci sono tante cose che ti farebbero dire che Zenit sarebbe proprio la casa adatta per stare nel mondo delle corse, nel mondo dell'oroggeria, anche perché utilizzano molto spesso il titanio, soprattutto appunto sulla linea DeFi, quindi materiali ceramica, materiali comunque leggeri, performanti, resistenti. Però lo sai che non ti saprei rispondere. Secondo me è proprio una gestione, non dico sbagliata di marketing, ma ha una visione diversa del brand, anche perché forse Zenit nel passato era un brand molto più legato alla tradizione, al pezzo elegante, che si è evoluta, però ha sempre molto seguito, diciamo, gli standard, non è mai, adesso vediamo una Zenit rinnovata, secondo me, che poi viene anche apprezzata molto spesso, è quello che fa. diciamo che all'epoca Zenit, negli anni 60, 50-60, prima di fare il primero, era una casa che come stile, non sto paragonando la Zenit dell'epoca col brand che sto dicendo, non mi linciate, ma come stile era molto simile all'Onjin, quindi faceva orologi molto classici, chiaramente l'Onjin era su un altro livello. Poi però, con l'arrivo del primero, Zenit si è lanciato un po' nel mondo dello sportivo, ma non è mai arrivata lì, e questa è una cosa che a me, a me un po', sinceramente, da amante dei tuoi mondi, un po' mi dispiace, perché a volte noi abbiamo visto accostati dei nomi, anche in epoca contemporanea, che magari un tempo dicevano tanto e che oggi dicono un po' meno, io parlo di Tagoyer in questo caso, se l'avete capito, mi dispiace che ci siano alcuni modelli di Tagoyer che comunque hanno magari dei gran calibri, perché sono comunque ingegnerizzati molto bene e portano delle innovazioni, non so se tu vorrei parlarne di uno di loro, sì, però appunto non è Oyer Carrera degli anni 60, ed è un peccato pensare che Zenit non sia lì, tra loro, è un po' strana come cosa, però lascio la parola a te, che mi dirai. E di Tagoyer invece, in realtà ti vorrei parlare di Tagoyer, ma in un modo un po' provocatorio, un po' dispregiativo, visto perché abbiamo parlato così tanto bene di Zenit, del fatto di come effettivamente sia un brand che meriterebbe di stare al polso dei piloti, in realtà Zenit ha una linea che si chiama Formula 1 e sono orologi al quarzo. I Tagoyer. Sì, Tagoyer. Fa orologi al quarzo, per carità, non voglio assolutamente screditare il quarzo, però ecco, voglio dire, in una linea Formula 1, da un brand così, mi aspetterai che ti concentrassi su un certo tipo di prodotto, perché se tu vai a vedere i Tagoyer Formula 1, quindi che hanno proprio nel nome, Formula 1, vai a vedere i modelli femminili, hanno i quadranti madri perla, e i diamanti. Sì, perché sono indossati proprio i Formula 1 dai piloti della Red Bull. Quindi, per dire, perché? Perché fare questa cosa? Cioè, capisco il marketing, però perché fare queste cose? E soprattutto, a noi appassionati di tecnica, diciamo così, che sia poi sulle quattro ruote, che sia all'interno del movimento, ci piacerebbe vedere l'unione magari di un brand con Z. Di tutte e due le cose. È giusto, anche a me, io l'ho sempre pensato, perché secondo me, anche Tagoyer avrebbe negli archivi il potenziale per fare delle gran cose, e qualche volta ci stupisce. La cosa bella di Tag, è che qualche volta comunque qualcosa la fai e dici, wow, ok, questo è molto simile a Carrera, questo è molto simile a Oyer, come nei vecchi tempi. Il problema è quello, secondo me. Che non sfruttano l'heritage che potrebbero sfruttare. Sai cosa c'è? Perché Tagoyer, nel corso del tempo, io ho letto una volta che Tag, quando ha acquisito Oyer, era un'azienda che andava molto bene in Oriente. Quindi, quando ha acquisito il marchio, e sono diventati un'unica azienda, è sempre andato molto forte, sin dall'inizio, in Oriente, in Giappone, in Cina, forte dei rapporti commerciali che Tag, aveva prima di acquisire Oyer. Adesso, il problema è che, problema, insomma, il mercato, da padrone le aziende devono vendere, quindi, l'Oriente ha gusti molto diversi dai nostri, il mercato cinese e il mercato giapponese, sono mercati di massa, si vende tanto di più, l'orologeria piace, ma piace l'orologeria tecnologica, piace l'orologeria moderna, è un po' meno quella tradizionale, ci sono chiaramente delle nicchie, in cui piace l'orologeria tradizionale, però l'orologia tradizionale parla di quarzo, e quindi, Tag, oggi, che comunque è un brand, che in Formula 1 è presentissimo con Red Bull, è un brand che va molto bene, in Oriente e in Giappone e in Cina, e quindi si fa vedere in Formula 1, che comunque è una competizione, che è molto seguita in Oriente, loro hanno la super formula giapponese, che è comunque la pseudo Formula 1, però, insomma, la Formula 1 è globalmente, il pinnacolo con il topino in motorsport, e quindi, avranno fatto delle scelte commerciali, quarzo, Oriente, Formula 1, un po' tutte e due. Poi c'è da dire che la linea Formula 1, all'interno del catalogo di Tag Goyer, non è una linea che si è rinnovata così tanto, è simile da quando è nata, che non so di preciso, ma a vedere le forme, mi viene da dire, fine anni 80, sarà quel periodo lì? Sì, secondo me, anni 90, perché fino agli anni 80, Tag Goyer era presente in Formula 1, e il brand ambassador di Tag Goyer era un certo Senna, che però non indossava, non indossava Formula 1 perché non esisteva, indossava il Link, Link col cinturino in pelle, però con l'attacco delle anze classico del Link, che a me non è mai piaciuto, però lui era, l'aveva anche sulla macchina lo sponsor, anche nella tuta, quindi insomma, lui era il brand ambassador, insomma, un pilota di un certo livello, non so se l'avete mai sentito, ma secondo me sì, mai sentito, un po' come il Kaiser, e quindi niente, alla fine è un po' strano, cioè sono un po' strani questi due mondi, perché sono due mondi che a volte, mi rendo conto, anche dal punto di vista delle auto, potrebbero dare molto di più, però poi per motivi commerciali, per motivi di pura casualità, magari alcune storie belle non riescono a nascere, e non soltanto nell'orloggeria, ma anche proprio come auto, ci sono molte case che nascono, che promettono tanto, che promettono bene, poi però sono delle storie che sono destinate a finire, perché finiscono il budget, finiscono i soldi, e l'orloggeria nella Formula 1 è un po' questo, cioè tanti brand riescono, alcuni a fortuna, vengono magari associati alla Formula 1, alle corse, un po' come Rolex, alla fine Rolex è sponsor globale dello sport, perché Rolex è ovunque in Formula 1, però nessuno ha Rolex, è un po' lì, no Rolex è sempre un po', si fa i cavoli suoi, sempre lì ci sono Rolex, è lo sfondo, più che lo sfondo è il contorno, capito, quello che... sì 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 sì, è sempre lì, la cosa bella per Rolex qual è? Che loro secondo me sperano che ogni gara una macchina vada a sbattere, nelle paratie di lato, perché tanto finiscono comunque nel cartello Rolex, e per loro è comunque un'inquadratura, quindi non so, cioè Rolex è sempre lì, e sinceramente io quando penso ad un cronografo da corsa non penso a Rolex, cioè non mi viene in mente subito il Daytona. Oramai nell'immaginario comune c'è da dire che ci siamo spostati tanto da vedere il Daytona, ma in generale il Rolex sportivo come vero professionale, cioè quindi Daytona come orologio, come cronografo utilizzato nelle corse. Esatto, adesso i cronografi sportivi e i diver sportivi li immagini in un altro modo, cioè Rolex ha aggiunto un livello tale per cui anche i professionali ti sembrano degli orologi eleganti. Esatto, esatto, cioè stavo proprio per dire questo, ci siamo estremizzati da questo punto di vista, ma in tutti i sensi, cioè adesso l'elegante, cioè non esiste più l'elegante come un tempo, non esiste più lo sportivo come un tempo, ci sono tante vie di mezzo, quando invece tutti notiamo lo sportivo pensiamo a Richard Miglia, quando pensiamo tutti all'elegante per forza pensiamo al Tank di Cartier, cioè non so come spiegarlo. Sì, 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 assolutamente. Siamo un po' estremizzati da entrambi i sensi. Un brand, secondo me, quasi emergente, però ecco, diciamo che il personaggio che lo indossa, invece tu mi potrai dire che non è tanto emergente, che conosciamo essere un pilota molto, molto forte, per chi ci stesse seguendo, ma forse l'ho detto in qualche live, che io ho corso in kart per dieci anni, ma poi mi sono distaccato completamente un po' dal mondo. Male, molto male. È un mondo molto costoso, ragazzi. No, ma semplicemente guardarla, io pago Sky. Ti dico la sincera verità, io da appassionato, anche da pilota, ho sempre preferito guardare gare di macchine a ruote coperte che guardare la formazione. Ah, per carità, sì, sì, ma ho molti amici, c'è un mio amico super appassionato di auto, molto più di me, e lui è super appassionato di rally. Quindi ci sta, comunque le gare a ruote coperte, per me non hanno il fascino delle ruote scoperte, perché per me la Formula 1 è la Formula 1, però guardare l'endurance, il campionato di durata, guardare il rally, guardare il GT, dà soddisfazione, quello sicuramente. Allora ti dico perché è leggermente più dinamica la questione, cioè, nel senso, le gare di Formula 1 sono ultimamente, anche se io non ho visto l'ultima gara, ma ho visto qualche highlights, ho visto che comunque, dai, sia un po' più sbilanciato, sembra essere partito bene. Speriamo di sì. Sembra essere partito bene, e magari tornerò a guardare la Formula 1 e faremo dei video dove commentiamo solo la Formula 1. Io dovete sapere che a telecamere spenti gli rompo sempre le scatole per guardare la Formula 1, e ancora non ci sono riusciti. Esatto, ogni giorno mi dice devi guardare, devi guardare, però purtroppo mi sono distaccato, già prima non ero molto interessato, preferivo guardare la MotoGP, nonostante le moto a me non mi facciano impazzire, preferivo guardare la MotoGP oppure le gare, appunto, io ero innamorato e sono tuttora innamorato delle DTM, per me sono la categoria più incredibile. Peccato che è un campionato in crisi, però le DTM sono belle. È normale, è normale, è normale. Anni 90, DTM anni 90, con le alfone. Esatto, bellissimo, bellissimo, quelle gare lì sono spettacolari, se si va a vedere i video su YouTube sono allucinanti. Il video di Dannini che si incazza e insegue il tedesco per andargli sopra nel 94. Mi pare di averlo visto, sì, esatto, mi sa che quel video l'ho visto. Bellissimo. E vabbè, storie incredibili dai, cose che si sono un po' leggermente perse, secondo me in Formula 1, è diventata un po' più... È elitaria, è elitaria ragazzi, la Formula 1 è per pochi, relativamente per pochi, perché se non esisterebbe, ed è... È per pochi, Ale. È per pochi. Yes. Perché è per correre in Formula 1... No, soltanto per correre, ma è per pochi anche per chi la guarda. Ah, sì, per senso. Non è per pochi, comunque è anche uno sport relativamente anche di nicchia, no? Vedo che la MotoGP tira di più. Torniamo agli orologi. All'orologi. Allora, io ho visto una foto, o meglio, ho visto un video su Instagram di Hamilton che vince la gara, la prima cosa che fa, si va a mettere l'orologio. Sì, con Angela Callen, la sua assistente, gli va là. Esatto. Sempre. Gli dà l'orologio. Gli dà sempre... Io ti dico, ho visto questa scena su Instagram qualche giorno fa, ho detto, allora dobbiamo citare per forza AWC. AWC, tra l'altro, c'è, se andate sulla pagina in questi giorni di AWC, c'è proprio una pagina dove hanno fatto un'intervista a Lewis Hamilton e altri personaggi famosi. E sì, avevano fatto anche il video su YouTube che non ho visto. E voglio parlare di un orologio che non c'entra nulla col mondo delle corse, nello specifico. Ma è un orologio che secondo me indossava proprio Hamilton ed è... Il pilot. Il pilot. Tra l'altro è il pilot di Hamilton e lui, Hamilton ha un pilot che ha solo lui, è unico pezzo al mondo, tutto nero, black, total black. Ok. L'aveva sicuro l'anno scorso, quest'anno c'è stata soltanto una gara quindi non so se gli hanno dato pure quest'anno, ma sicuramente l'anno scorso l'aveva solo lui. Infatti Bottas, che è il suo compagno in squadra, aveva sempre un pilot ma diverso. L'altro giorno è stato bellissimo perché dopo le qualifiche l'hanno intervistato e c'era Bottas che rispondeva alle domande ma guardava tutto il tempo l'orologio perché gliel'avevano settato largo e quindi ha avuto tutto il tempo a stringerselo meglio. Di fatto si è fatto l'intervista senza orologi quindi il marketing di Bussi sarà stato super contento di questa cosa. Però, guardiamo, al Big Pilot che costa una follia, si chiama Big ed è un 46 mm però è un orologio che a me piace da morire con la corona enorme a cipolla esatto e a diamante in realtà queste sono a diamante a diamante 7 giorni di riserva di carica è un orologio molto particolare secondo me e qui torniamo un po' più sul classico è un orologio pilot dalle dimensioni importanti che si collega molto bene alla storia proprio dell'aviazione del perché quegli orologi erano così grandi e non lo so te ne volevo ti volevo parlare di questo orologio innanzitutto per sapere cosa ne pensavi perché entrambi diciamo che apprezziamo gli orologi un po' più piccoli e questo è un 46 mm 15 e mezzo di spessore diciamo che è un orologio non è un orologio per noi probabilmente dirò una cosa forte preferisco Richard Mille che ha Leclerc ma non perché sono tifoso di Leclerc ma perché dico no 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 ma perché dico cioè preferisco che se un orologio deve usare deve essere qualcosa di no di importante penso che sia totalmente un'altra cosa che è un orologio enorme relativamente certo e basta perché per me è un orologio veramente che ha poco senso non lo so non è brutto perché gli ibusi sono molto belli però è bellissimi troppo grande ce lo vedo anche sul polso di Bottas e comunque sono atleti hanno i polsi grandi hanno le braccia grandi quell'orologio sta bene sta enorme pure al team principal della Mercedes che è gigantesco che è tutto Wolf che avrà un polso da 31 e quell'orologio sta grande pure a lui quindi io non so a chi stia bene forse a Schwarzenegger soltanto nel mondo ti consiglio di guardare il lo sapete lo sapete chi mi segue un po' l'avrà capito sono fan di John Mayer e c'è un video di Odinkey dove fanno il reference point con lui di tutti i suoi iwc big pilot e lui alla fine è un uomo di corporatura media magari è un po' alto però se vedi come gli stanno ti fai un'idea ti fai un'idea se vogliamo parlare di un orologio un po' più tecnico un po' più sportivo però importante nella storia di wc è il pilot chronograph il top gun quindi colorazione tutto nero anche quello secondo me è un orologio molto bello e anche quello in formula 1 lo indossano qualche volta nelle press conference del giovedì ce l'hanno è bellissimo anche quello quello è figo tutto canna di fucile è molto bello molto bello assolutamente tu hai qualche altro orologio in mente perché stiamo andando lunghi sei arrivato alla fine io sono arrivato alla fine sei arrivato alla fine le mie idee ragazzi allora ecco ho un'ultima considerazione da fare per tornare su Taggoier poi chiudiamo un invito che facciamo quindi a Taggoier è perché non ci fai una serie di carriera serie 2 quindi tu sai di quale parlo chi non ha ascoltato il podcast deve andarlo a sentire perché rilevo scusatemi rivelo una chicca in merito a quegli orologi fighissimi che davano riguardo al fondello dell'orologio basta non diciamo nulla devono andare a sentire quel podcast perché non ci fa quella linea cioè se Taggoier tira fuori un carriera di quel genere ragazzi sbanca top prenotato subito cioè lo chiamano Taggoier carriera formula 1 oppure carriera 1 sì ma lo chiamano anche lo chiamano carriera lauda perché insomma insomma poco comune per quell'orologio e quindi ragazzi mi è piaciuto mi è piaciuto dai è stato bello poi sono due argomenti che a me accendono entrambi poi di orologi se sarei parlato di più tu io ho fatto un po' più di auto però mi piace così ragazzi allora siamo arrivati alla fine avete capito abbiamo parlato di un sacco di orologi diversi non siamo entrati troppo nelle complicazioni anche perché lascio un po' il tempo che trova tranne per i ricermi che abbiamo detto qualcosa di più io mi sono divertito anche io anche tu e quindi sono contento che tu ti sei divertito lo faremo con altri argomenti penso che questo per i nostri impegni diventerà probabilmente in futuro il format di base del mio canale molto più a chiacchierata molto più a video podcast quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like lasciate un mi piace commentate iscrivetevi fate quello che volete seguite anche Pasquale ma Gianto sicuramente se seguite me seguite sicuramente anche lui con questo vi saluto grazie mille grazie a te Ale grazie a tutti per averci ascoltato perché non è scontato e quindi siamo molto contenti di aver riempito questa parte della vostra giornata e noi ci vediamo Ale non lo so dimmi tu la chiudo io la chiudo io la chiudo io Ale gli esplosa la fotocamera e quindi noi ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti